Il caso eclatante di Andria è solo uno spaccato delle cronache che quotidianamente raccontano episodi di violenza consumati nei confronti delle donne. Nella sola giornata di oggi almeno quattro i casi simili affrontati in Puglia dalle forze dell'ordine. A palo del colle i carabinieri hanno arrestato un 33enne pregiudicato resosi responsabile dell'incendio di due autovetture appartenenti alla sua ex compagna, con cui aveva avuto una relazione sentimentale per circa due anni. La donna ha raccontato ai militari di essere stata vittima di continue minacce, maltrattamenti e richieste estorsive. L'uomo è finito ai domiciliari. Il GIP del Tribunale di Foggia invece ha ordinato l'allontanamento dalla casa familiare per un 47enne accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamenti. L'uomo in un'occasione avrebbe puntato un coltello da cucina alla gola dell'ex moglie davanti alla figlia minorenne. A Cisternino le indagini dei carabinieri di Fasano hanno fatto emergere una situazione di ripetute minacce, violenze psichiche e verbali, subita da una 29enne sin da quando aveva dato avvio alla pratica di separazione dall'ex marito. La scorsa notte l'uomo, un suo coetaneo, ha colpito più volte con la sua automobile, il mezzo nel quale aveva trovato riparo l'ex coniuge per sfuggire alle sue persecuzioni, prima di dare vita ad una colluttazione con un familiare che cercava di proteggerla. Il 29enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento. L'ultima storia arriva da Latiano, in provincia di Brindisi, dove un extra comunitario di 34 anni dovrà rispondere di tentata violenza sessuale nei confronti di una connazionale con la quale conviveva da circa un mese, colpita in testa con una bombola del gas per la sola colpa di aver rifiutato le sue avance. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, la donna trasportata in ospedale. Grazie a tutti.